Ridotta la Tari per le piccole e medie imprese è un primo passo, ma è anche un primo segnale positivo in vista della necessaria realizzazione di un piano complessivo di rilancio della nostra imprenditoria alle prese con la terribile crisi conseguente all'emergenza Covid-19. Così il presidente di Confartigianato Arezzo Ferrer Vannetti che sottolinea come a seguito di pressanti richieste presentate dall'associazione di categoria all'autorità di regolazione per energia, reti e ambienti si è arrivata alla delibera con la quale è stata definita una riduzione della tassa sui rifiuti 2020 per le utenze non domestiche colpite dalla crisi Covid-19. Nel documento, Arera invita i comuni ad applicare uno sconto alla quota variabile della Tari, quella più consistente, operando una distinzione per tutte le attività soggette per dpcm a sospensione per emergenza Covid-19. Lo sconto dovrà essere proporzionale ai giorni di chiusura, spetta all'ente territorialmente competente provvedere ad individuare i giorni di chiusura previsti per le diverse attività. Per quelle chiuse spontaneamente in questi mesi non per legge, la riduzione è invece facoltativa. Il comune o l'autorità d'ambito possono decidere se prevedere o meno agevolazioni e sono liberi anche nell'identificarne il funzionamento. L'unica indicazione è che i tagli in bolletta siano commisurati ai minori quantitativi di rifiuti prodotti. Arera ha infine scelto di predisporre anche una riduzione Tari per le famiglie disagiate. I comitati potranno applicare la tariffa leggera alle famiglie in difficoltà economica.